ho deciso di iniziare questa serie di video che verrà proposta almeno una volta a settimana o di domenica o di lunedì dipende da quando ho tempo di registrare o meglio quando ho tempo di caricare il video comunque sia sarà una cosa settimanale non sempre comunque sia gli yokai che riesco a trovare sono rari o sono appunto yokai sono anche oggetti comunque sia ci saranno delle belle sorprese leo sismo bella nombra bella 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 Eternia Eternia C'è l'ho coda Negra C'è l'ho coda C'è l'ho coda una bust DRAKETTO Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.